Parlando della partita di ieri penso che comunque siano fatti sentire un attimo le due settimane di lavoro e comunque il mister alla fine ha ragione di voler pretendere il suo gioco giustamente e noi ci stiamo impegnando per ascoltarlo e fare in modo che ci riescano queste giocate ieri purtroppo avendo un po' la stanchezza, un po' di fattori per il ritiro non ci sono venute alcune cose ma penso che comunque siamo sulla strada giusta per poter gestire tutte le cose come vuole lui. Io con Simone comunque ho già un ottimo rapporto, ci parliamo spesso anche per confrontarci su determinati lavori, su determinati movimenti in campo quindi io sono molto contento sinceramente di avere uno con la sua esperienza nel mio ruolo perché ho solo da imparare. Purtroppo sì, io sono venuto qui con l'idea di comunque in primis sicuramente di crescere ancora perché il tempo per imparare non è mai finito. L'anno scorso purtroppo ho avuto, anche due anni fa purtroppo questo problema del calcio scommesso che mi ha veramente fatto praticamente perdere tempo perché poi comunque di fatto non c'era nulla di concreto su di me quindi ho perso solo tempo e basta ma purtroppo sono cose che possono succedere e adesso guardiamo avanti. Io sinceramente nel corso degli anni ho fatto sia il terzino sia l'esterno sia il difensore sinistro a tre quindi gli ho passati un po' tutti. Diciamo che forse le mie caratteristiche sono più offensive infatti col mister stiamo lavorando molto sulla fase mia difensiva per migliorare però nel ruolo sinceramente non ci sono problemi. Secondo me sulla rosa è già una rosa competitiva per la Serie B poi sicuramente la Serie B è un campionato secondo me il più difficile che c'è con un sacco di partite quindi il mister avrà fatto questo tipo di pensiero qui però guardando gli allenamenti comunque stando qui in compagni io vedo già comunque una buona squadra sicuramente che deve crescere perché ci sono molti giocatori nuovi molte cose da imparare ma sinceramente penso che potremmo giocarcela con tutti. Devo essere sincero che ho trovato nel gruppo diciamo tra virgolette quello vecchio diciamo dell'anno scorso ho visto subito molto affietamento ho molta voglia di far crescere questo gruppo poi con Lorenzo, mio compagno di camera quindi ci siamo trovati subito avendo anche amicizia in comune siamo andati subito d'accordo e adesso vediamo se riesco a batterlo che non sono ancora riuscito a batterlo quindi è un buon giocatore a FIFA quindi in queste sere ce la devo mettere tutto.